Musica Padre Antonio Spadaro, gesuita per 12 anni, direttore di civiltà cattolica, attuale sottosegretario per il Dicastero alla cultura e l'educazione. Ci accingiamo a vivere il Giubileo del 2025 dedicato al tema della speranza. Giubileo è una parola antica, come declinarla per l'uomo e la donna di oggi? Giubileo è una parola biblica, profondamente biblica, indicava un tempo in cui venivano liberati gli schiavi, la terra veniva messa a riposo, era un tempo di riconciliazione con la terra, con gli altri, e oggi abbiamo un bisogno immenso di questa riconciliazione. Il mondo è sempre più spaccato, è sempre più diviso. Vediamo la contrapposizione dei blocchi, anche da un punto di vista politico, se vogliamo, lo schema di alta, come dice il Papa, di un mondo diviso a fette, non funziona più, sta cambiando l'ordine mondiale. Allora, tirare fuori questa parola, che fa parte della riserva biblica, quindi antica, tradizionale, profonda, per il mondo di oggi, significa consegnare questo bisogno di perdono, di riconciliazione al mondo di oggi, che ne ha veramente tanto, tanto bisogno. Quindi è una parola che ha da dire qualcosa anche ai non credenti? Ma guardi, non farei questa distinzione tra credenti e non credenti, mi sembra molto artificiale in un momento come questo. Tutti siamo chiamati a contribuire alla costruzione di un mondo migliore, credenti, non credenti, credenti di varie religioni, cristiani di tante confessioni. Oggi la diversità è molto forte, molto presente, molto sentita. Il punto è che dobbiamo trovare una base comune di collaborazione. Allora, richiamarsi ai valori del Giubileo, che sono appunto quelli della riconciliazione, della pace, diventa fondamentale per tutti, credenti e non credenti. Lei per il suo servizio, per la sua passione, per la sua competenza, i suoi studi, ha incontrato tante persone, tanti uomini e tante donne impegnate nel mondo dell'arte. Cito Marti Scorsese, Michelangelo Pistoletto, tra gli ultimi. Ecco, nelle opere di questi artisti che ha incontrato, cosa l'ha colpito? C'è un filo di speranza per riallacciarci al tema del Giubileo? Ma intanto ho incontrato gli uomini, le persone, gli artisti, quindi se vogliamo prima ancora delle opere stesse, in maniera casuale a volte, ma mi ha colpito perché le esperienze delle persone che ho incontrato, lei ha fatto riferimento ad alcuni di questi, aggiungo di recente anche Matteo Garrone per esempio, sono persone che al di là del loro vissuto umano, del loro vissuto eventualmente di fede, o meno appunto, sono persone che sono state in grado di esprimere una grande voglia di futuro. Quello che oggi manca nel nostro mondo è proprio il futuro. Persino i conflitti a cui assistiamo sono conflitti strategici, ma che non hanno alcune idee di futuro. Allora abbiamo bisogno oggi dell'arte, al di là appunto del dialogo tra arte e fede, che andava bene fino a un certo punto, ma adesso non è questo il problema. semmai il problema è quello di chiedere all'arte una nuova immaginazione. Non siamo più in grado di immaginare il futuro. La fede stessa ha bisogno di immaginare il cristianesimo per il mondo di oggi. Allora il confronto di tutti, credenti e non credenti, con l'arte è diventato fondamentale, perché l'arte è in grado di consegnarci una visione delle cose, una visione del futuro. Lei per 12 anni è stato dirittore di Civiltà Cattolica e sotto la sua direzione sono anche aumentate le edizioni in lingue straniere. Ora abbiamo, sono sette, abbiamo anche il russo, il cinese e l'arabo. Ecco, anche il tema della comunicazione, della parola scritta, ha un suo valore per il racconto della speranza oggi? Beh, guardi, l'esperienza di Civiltà Cattolica per me è stata straordinaria. La grande sfida di questa rivista, di questo quindicinale, per me, considerando anche il legame forte che ho vissuto con Papa Francesco, era quella di lanciare un messaggio per tutti, cioè scoprire il valore civile, sociale, di un messaggio che si radica profondamente nella fede. E il fatto di avere più lingue significa di fatto l'attenzione, avere il radar acceso sui diversi contesti linguistici e culturali, non avere dei limiti. Non si può più fare, secondo me, una rivista veramente culturale che non sia aperta completamente al mondo. Quindi ha avuto collaboratori da tutto il mondo e ha espresso, diciamo, i suoi contenuti in varie lingue. Questo evidentemente si basa sulla speranza, nel senso che si vuole, come dicevo prima, immaginare un mondo nuovo, un futuro aperto, affrontare le grandi sfide che in questo momento sono sul tavolo. Ma questo in fondo è anche, secondo me, la grande sfida del giornalismo, costruire un mondo migliore, essere profondamente radicati nel bisogno di verità, fatta anche con le inchieste, con le ricerche, con le denunce, evidentemente. E in questo senso il giornalismo è un mestiere affascinante. Lei come giornalista e come gesuita ha avuto il privilegio di accompagnare Papa Francesco in tutti i suoi viaggi. E ha avuto anche il privilegio proprio di accompagnarlo negli incontri con le comunità di gesuiti che lui ha incontrato in giro per il mondo. C'è un filo rosso che lega questi incontri? Direi di no, nel senso che Papa Francesco si è sempre confrontato con le comunità dei gesuiti alla luce delle situazioni locali. Quindi non ha fatto discorsi astratti, validi sempre. Quindi forse il filo rosso è esattamente questo, l'attenzione alla concretezza, cioè alle sfide delle situazioni, che sono differenti nel mondo. Allora, accompagnare Francesco nei viaggi internazionali è stata appunto un'esperienza straordinaria, proprio perché mi ha permesso di vedere le reazioni che le diverse popolazioni, le persone dei diversi contesti hanno avuto nei suoi confronti. L'incontro con i gesuiti normalmente è avvenuto non proprio all'inizio e certamente non alla fine, un po' a metà. Quindi è stato il modo per comprendere la sua reazione, prima reazione, al confronto con le terre che ha visitato. Allora direi il rapporto con i gesuiti è stato un rapporto di famiglia, molto rilassato, molto disteso, ma credo che sia proprio all'interno di queste situazioni che emergono le grandi domande. Quindi l'attenzione alla realtà locale. Restando nel tema della compagnia di Gesù, Papa Francesco è un gesuita. Cosa ha dato la compagnia alla Chiesa con un Papa Gesuita? E cosa questo Papa Gesuita ha dato alla Chiesa? Guardi, quel 13 marzo del 2013 ero in Piazza San Pietro e quando ho sentito il nome di Bergoglio non credevo alle mie orecchie perché non avrei mai immaginato un Papa Gesuita. Devo dire che riflettendo su questa scelta dei Cardinali penso che sia stata veramente ispirata, nel senso che c'era bisogno di mettere al centro della Chiesa il carisma del discernimento, cercare di trovare la volontà di Dio in questo momento storico di transizione. Molto difficile, molto complicato, Francesco sta affrontando delle sfide molto impegnative. Allora il discernimento è la chiave giusta, è quella che ci ha condotto ad esempio al Sinodo. Per la compagnia, il rapporto tra Francesco e la compagnia è stato complicato negli anni, c'è stata anche dell'incomprensione. Penso che Francesco sia stato uno stimolo, e continui ad essere, uno stimolo positivo per la compagnia. Ho avuto l'esperienza della congregazione generale e si è avuta questa situazione inedita di un Papa Gesuita che parla alla congregazione generale, che in genere ha sempre ricevuto, chiaramente in Vaticano, stavolta è stato lui che è andato a trovare i Gesuiti riuniti. E lì ho capito che il Papa lanciava una sfida molto più grande di quella che la compagnia stessa poteva immaginare. In qualche modo ho sentito la compagnia un passo indietro rispetto al Papa. Quindi c'è questa sorta di inseguimento carismatico che la compagnia non può fare altro che bene. L'ha accennato, lei viaggia tanto e ha conosciuto anche tante chiese locali. Che idea si è fatta di questa chiesa, che è una chiesa sinodale, che è in cammino, che quindi sta affrontando una sfida altissima? Quali sono le potenzialità e quali sono anche i rischi? Direi la grande differenza, questa è la grande sfida che ho avvertito non solo nei viaggi, ma mi è stata confermata anche dai sinodi. Cioè, se prima la chiesa era sostanzialmente uniforme, cioè adesso con tutte le peculiarità e le differenze, però diciamo, i vescovi per esempio per la maggior parte venivano formati a Roma, conoscevano in qualche modo l'italiano, prima ancora c'era il latino, quindi c'era una romanitas, una latinitas che formava e univa la chiesa. Adesso tutto questo non c'è più, le differenze sono enormi. Situazioni pastorali che vanno bene per un paese dell'Europa, non vanno bene per un paese dell'Africa e viceversa. Quindi la diversità è la cifra. Allora la chiesa in questo momento deve confrontarsi in maniera positiva con questa diversità, ma è quello che la rende veramente cattolica. Avrebbe mai immaginato di essere così vicino al Papa? Questa cosa come lasci a sentire? Ah no, no. Dice assolutamente no, non avrei mai immaginato un Papa Gesuita, ma non avrei neanche immaginato, come dire, di essere così a servizio diretto, grazie anche alla rivista, e a tutta l'attività, i sinodi e i viaggi. Sono stato il primo a intervistarlo. Sono stato il primo a intervistarlo, ma devo dire che ho acquisito una consapevolezza di questa cosa col tempo. Per esempio, devo ammettere, quell'intervista per me è stata straordinaria, mi sentivo come seduto su un vulcano, però poi l'ho capita col tempo. Già lì, per esempio, mi parlava della sinodalità, ma l'ho capita solo molti anni dopo. Allora no, non avrei mai immaginato questo, lo sento come un grande dono, una grande grazia per la mia vita. Lei, da direttore di Civiltà Cattolica, da appassionato anche al mondo digitale, è stato il primo a parlare di cyberteologia, almeno qui in Italia. Ecco, adesso che le cose sono andate avanti, c'è questo sviluppo dell'intelligenza artificiale che mette anche un po' paura. Cosa la affascina e cosa teme dell'intelligenza artificiale? Io penso che la Chiesa deve stare lì dove sono gli uomini e oggi gli uomini sono anche in rete. Il ragionamento di quella che poi ho chiamato cyberteologia è molto semplice, cioè la rete ha un impatto sul modo di pensare delle persone e la teologia è pensare alla fede. E quindi la mia domanda è semplice, cioè come la rete cambia, sta cambiando e cambierà il modo di pensare alla fede. Da qui si è sviluppata la riflessione che oggi chiaramente ha un fuoco proprio nell'intelligenza artificiale. Io penso che sia una grande rivoluzione, ma l'uomo ha vissuto questi grandi salti. Immaginiamo l'invenzione della luce elettrica che ha cambiato completamente il modo di vivere, ma anche di pensare, le grandi innovazioni tecnologiche, l'aereo ha cambiato il modo di percepire il mondo stesso. L'intelligenza artificiale tocca direttamente il modo di pensare dell'uomo, la sua creatività. La grande sfida chiaramente è come, direi non tanto se l'intelligenza artificiale potrà in qualche modo equagliare quella umana, ma se l'intelligenza umana potrà rimanere veramente umana. E questo per me è il punto, cioè se le decisioni fondamentali dell'uomo saranno affidate a una macchina oppure no. In questo senso credo che l'intelligenza artificiale sia una grande sfida positiva. impareremo pian piano a integrarla nel nostro modo di vivere. L'importante è essere aperti, non chiusi, arroccati, dietro paure. Ritorniamo all'arte. Padre Marco Rupnik, Gesuvita, è stato dimesso dalla compagnia con l'accusa di abusi. Le vittime che lo hanno denunciato hanno chiesto che tutte le opere che Rupnik ha fatto in tantissimi luoghi di culto, a partire dal Vaticano, su un piene, le chiese, i conventi, le cappelle, venissero rimosse, perché per loro queste opere continuano a fare violenza. Lei cosa pensa di questo tema, di questa ricerca? Intanto vediamo poi il processo fra la sua storia, quindi non è questo il luogo del giudizio. E quello che posso dire è che il problema che io vedo in queste opere è la diffusione così globale. in fondo ogni realtà, la diversità che c'è nella Chiesa ha diritto di esprimersi nella maniera più, anche di forme, se vogliamo. Allora invece queste opere in qualche modo hanno mappato il mondo, quasi imponendosi sulle realtà locali. Allora questo è il vero problema che io vedo da un punto di vista ecclesiale. Come mai secondo lei c'è stata questa moda? Ma certamente è stata una moda. Ecco questa è la parola probabilmente più corretta. E questo per me è il vero problema. Chiaramente le vittime vanno ascoltate, la loro voce va valorizzata nella maniera migliore possibile. Da un punto di vista puramente artistico, se questa è la domanda, io trovo sempre problematico diciamo uniformare l'arte a quella che è la vita dell'artista. Quindi al di là della valutazione sulla sua opera, ad alcuni piace, ad altri non piace, bisogna stare molto attenti a fare piazza pulita diciamo delle opere sulla base del comportamento del suo autore. L'opera va valutata nella sua qualità, bene o male. Alla Biennale di Venezia dove c'è il padiglione della Santa Sede, Francesco ha ricollegato ancora una volta il tema della bellezza con quello della speranza. Lei come interpreta questa affermazione? Penso che intanto la presenza del Papa alla Biennale di Venezia sia stata una presenza molto importante. Il lavoro fatto dal di Castello per la cultura e l'educazione in questo senso è stato quasi pionieristico. Quindi superare quella dicotomia arte-fede ma anche quel binomio arte-fede. Non siamo più su questo livello. Diciamo c'è l'idea che la Santa Sede metta a disposizione la sua intelligenza, la sua capacità per offrire al mondo una visione. Quello che dicevo prima, abbiamo bisogno di una nuova immaginazione. Allora il fatto che la Santa Sede abbia deciso di assumere come luogo per l'esposizione alla Biennale di Venezia del proprio padiglione un carcere con tutto quello che questo significa è un gesto politico. Il fatto di chiamare degli artisti a rappresentare delle opere coinvolgendo le detenute della Giudecca è stato un altro segno profondamente politico. Quindi in questo senso c'è l'immaginazione di una società e il Papa ha voluto mettere il suo sigillo su questo. Quindi è chiaro che la lettura della speranza la luce della speranza è una lettura molto forte. Lei è un appassionato di letteratura. C'è qualche romanzo ma anche poi qualche opera d'arte qualche melodia che collega al tema della speranza che lei dà speranza? Ma sono tanti in realtà è difficile categorizzarle. C'è una scrittrice americana che amo moltissimo che si chiama Flannery O'Connor lei era in grado di vedere l'azione della grazia in un territorio tenuto come diceva lei in gran parte dal diavolo. Quindi come dire la storia non è definitivamente persa. C'è un'azione di grazia a volte misteriosa nascosta che può essere colta anche all'interno delle situazioni più complesse e questo significa speranza. Musica? Sulla musica anche qui la questione è molto complessa io amo molto Bruce Springsteen per esempio ci sono dei dischi come Nebraska che rappresentano un'umanità direi disperata le Badlands come le chiamava lui le terre cattive alla lettera ma anche Flannery O'Connor appunto metteva in scena questi misfit cioè i balordi i cattivi però dentro si coglie la forza di una grazia che riesce a spaccare questo deserto. Nei momenti più bui cosa dà speranza alla sua vita? c'è qualche ancora che l'aiuta? Beh mi chiama a dare ragione della speranza che è in me e allora direi Cristo certamente cioè sapere che Lui ha assunto questa nostra umanità nella sua completezza complessità sensibilità quindi non c'è niente dell'umano in grado di spaventarmi a tal punto da distruggere la speranza. E per il Giubileo che ha le porte lei cosa spera? c'è un frutto che vorrebbe si realizzasse? Sì che nel mondo ci fosse questa riconciliazione che il Giubileo vuol portare viviamo in un mondo di contrapposizioni troppo forti di polarizzazioni forti ideologiche tra l'altro radicalizzate da una comunicazione che tende a opporsi alle opposizioni abbiamo bisogno di pace abbiamo bisogno come una volta che questa terra sia messa a riposo perché possa dare maggiore frutto è un'immagine mi sembra molto bella che possa dire qualcosa anche a noi oggi approfittare di questo tempo di grazia per trovare la formula della riconciliazione grazie 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 a tutti